Amici di Unbox, benvenuti sul mio canale, ci prendiamo 10 minuti per vedere questo bellissimo volantino della Lidl Parkside che parte dal 19 di giugno 2023. Attenzione perché ci sono tantissime offerte, ci sono tantissimi utensili e devo dire che alcune cose sono davvero convenienti. Partiamo proprio dalla prima pagina di questo volantino perché ci sono i set di punte da trapano a 4,99. Ci tengo a precisare che alcuni di questi set della Lidl li avevo comprati ad un prezzo un pochino superiore, lo ammetto, e devo dire che hanno reso molto bene. Forse non tutte le punte erano affilatissime, però insomma con un colpo di lima avevo risolto i problemi che avevo riscontrato su alcune punte. E devo dire che questi set, che poi più o meno hanno diciamo così le stesse caratteristiche qualitative di quelli che si trovano in giro per la rete ad un prezzo ben più alto, mi sembrano estremamente convenienti a 4,99. Quindi se foste interessati ragazzi dateci un'occhiata, mi raccomando. 4,99 set punte da trapano della Parkside. Andiamo avanti scorrendo un pochino il volantino senza fare tagli di qualche tipo perché vi faccio vedere che questa volta Parkside propone davvero tantissimi utensili. Eccoci qui alla pagina giusta. Cominciamo con questa smerigliatrice a mandrino oscillante, una potenza se non sbaglio di circa 500 watt, a 179 invece che a 199 euro. Questa, devo dire la verità, ragazzi ho visto che è stata recensita da alcuni youtuber molto famosi e la recensione non è stata positivissima. Però insomma le cose vanno sempre provate da sé, quindi se siete interessati, 3 anni di garanzia, la possibilità di restituirla se non funziona bene a norma di legge. Quindi voglio dire potete provarla se vi interessa. Andiamo avanti con un'altra smerigliatrice, quella orbitale a delta, per 24,99, 200 watt di potenza per 28.000 giri al minuto. Tra l'altro, sempre in questa pagina, troviamo anche il set di carta abrasiva per smerigliatrice, 2,49. Sono dei consumabili, a mio parere, venduti ad un prezzo molto conveniente, 18, 24 o 34 pezzi. Sega ad immersione con binario di guida. Io questa non la acquisterò perché posseggo già quella della performance, che tra l'altro vedrete recensita presto su questo canale. E devo dire che mi ci sono trovato veramente bene. Una Sega ad immersione con il binario per 1200 watt di potenza. Devo dire la verità, la versione Parkside Performance mi ha stupito davvero tanto. Perché è potentissima, velocissima, leggerissima e allo stesso tempo funziona davvero davvero bene. Quindi immagino che questa versione verde magari sia un briciolo meno performante, però funziona ugualmente bene. Specialmente se non volete spendere, come ho fatto io, 150 euro circa. Ma volete spenderne un po' di meno. Le guide sono in alluminio, da 70 o 140 cm di lunghezza, esattamente come le guide della versione Performance. Altro consumabile, set di Viti Fisher per 2,99. Tra l'altro con il coupon avranno uno sconto del 25%, quindi da 3,99 a 2,99. Mi raccomando scaricatevi Little Plus perché è un'app interessante. Set chiave combinati a 5 pezzi per 14,99. Queste qui le ho recensite sul canale, se scorrete tra i miei video le trovate. Sette di utensili a percussione combinati o cacciachiodi e punzoni per 6 pezzi, 7,99. Tra l'altro hanno una pratica valigetta in metallo. Diciamo un piccolo cofanetto, però insomma diciamo che per 7,99 potrebbero essere utili. Quindi il prezzo mi sembra abbastanza in linea sinceramente con altri prezzi che ho visto in giro per materiale simile. Però insomma sono pur sempre della Parkside, quindi se collezionate questo marchio sono perfetti per voi. Andiamo avanti. Abbiamo per 59 euro la troncatrice circolare, eccola qui, con serraggio rapido per il fissaggio del pezzo in lavorazione, angolo di inclinazione regolabile, ha la copertura di sicurezza ovviamente, è adatta alle comuni mole da 18, quindi da 180 mm, ed ha una molla da taglio per metallo e due chiavi a brugola in dotazione. 1280 watt di potenza non è poco, direi che potrebbe essere davvero davvero interessante. Guardate i dati tecnici sul numero di giri. Molto molto interessante. Queste sono le punte di cui parlavamo prima, legno, metallo, diversi tipi di taglio, eccetera eccetera, 4,99. Le punte da 15 pezzi, attenzione perché io le ho comprate tutte, tranne la scatola di bit che non mi serviva 6,99, devo dire che tagliano tutte quante molto bene, e sono stato fortunato io evidentemente, sono tutte quante punte abbastanza dritte e ben fatte, 6,99 le consiglio. I cofanetti sono di plastica, sì, ok, però sono abbastanza resistenti, mi sono caduti qualche volta durante qualche lavoretto e non si sono disfatti. Andiamo avanti. Abbiamo il solito cacciavite reverse con lampada attascabile sul retro per 14,99. Allora, diciamo che il numero di giravuoti, dunque, numero di giravuoto, 200 al minuto, max newtonmetri 10, 26 bit, ho visto qualche recensione di questo Parkside, ma non mi è piaciuta particolarmente, più che altro perché i newtonmetri non sembravano davvero essere 10. Ripeto, sono recensioni che ho visto, non è un oggetto che ho acquistato, perché ho tantissimi abitatori simili e quindi avrei soltanto sprecato soldini. Potrebbe essere interessante, ragazzi, se avete dei piccoli lavoretti da fare, insomma, o così, magari da far usare anche a un bambino per insegnargli un pochino l'arte del fai-da-te. Il prezzo è limitato, alla fine, insomma, ci sono anche 26 bit in dotazione. Troppo una percussione con 48.000 percussioni al minuto e 3.000 giri al minuto, battuta di profondità, il doppio manico, quindi abbiamo quello convenzionale e poi abbiamo quello aggiuntivo, come vedete, rosso, in plastica regolabile, 750 W per 29,99, un prezzo tutto sommato regolare, insomma, basso abbastanza, ma nulla di speciale, ecco, non è un'offertona, ne ho visti anche nei vari brico, più o meno allo stesso prezzo, 7 di fresa a tazza, 9 pezzi, qui ne abbiamo sia per legno che per materiale ceramico, eccole qui, 17,99. Sinceramente potrebbero interessarmi quelle per il materiale ceramico, il vetro, devo dire che sembrano ben fatte, però bisogna sempre vederle dal vivo, attenzione. Andiamo avanti amici, il solito avvitatore a percussione ricaricabile, quello utilizzabile per i nostri pneumatici, devo dire che io l'ho acquistato, l'ho usato qualche volta e funziona benissimo, vi farò poi una recensione dei sei mesi di utilizzo, viene con una batteria da 4A e 4 diverse chiavi a bussola, quindi questo qui, ragazzi, è ideale anche se non avete nessun tipo di attrezzo della Parkside, perché? Perché avete il caricabatterie e la batteria è inclusa, ha un'ottima regolazione, ve lo dico subito, ha 5 livelli di coppia selezionabili, quindi può essere davvero, insomma, utilizzato al meglio su ogni tipo di bullone delle nostre ruote, del camioncino, dell'auto, piuttosto che della moto, e per 79 euro, a mio modesto avviso, non è per niente caro, ha il suo peso, ve lo dico subito, ha il suo peso, è un attrezzo che appare molto ben fatto, personalmente sto anche aspettando le versioni performance, che solitamente per questo tipo di avvitatori sono estremamente più potenti, quindi voglio proprio vedere con cosa usciranno fuori la prossima volta che lo proporranno in versione performance, chiave a bussola per avvitatore a percussione da tre pezzi, anche queste sono spesso e volentieri riproposte, 11,99 con i tre colori 17,19,21 pollici, lampada da lavoro ricaricabile per 11,99, la solita piccola lampada pieghevole, molto molto bella, da 6500k per 800 lumen, una lampada dimmerabile da 120 lumen a piacere, poi ci sono anche la versione faretto e torcia 150 e 70 lumen, per 4,99, attenzione, batterie incluse, accessori magnetici o utensili da lavoro 3,99, allora, mi piacciono tantissimo i portaviti, diciamo, queste piccole bacinelle calamitate, e devo dire che forse per 3,99 diciamo che c'è molta convenienza, perché alla fine è difficile poterle acquistare ad un prezzo così basso, mi rendo conto che si possano costruire facilmente per carità, ne sono cosciente, però insomma, comprarli fatti in maniera professionale, così carucci, potrebbe essere davvero conveniente. Vi segnalo la barra magnetica che solitamente costa intorno ai 5 euro per 3,99, eccola lì, e una barra con una tenuta fino a 5 chili, io ne ho tantissime, mi pare che ne ho comprate addirittura 10 l'altra volta e le ho montate nella mia officina e sono fantastiche. Devo essere sincero, penso che a 3,99 ne comprerò altre 3 o 4, perché è un prezzo molto molto buono e sinceramente, ragazzi, servono sempre, perché io ne ho, ripeto, una decina, ma le ho riempite tutte, tra cacciaviti, scalpelli e quant'altro, si usano davvero tanto e poi ti permettono queste barre magnetiche di avere tutti gli attrezzi a disposizione senza cacciarli nei cassetti, negli armadi e così via. Ecco che andiamo avanti, ancora con oggetti della Parkside molto interessanti, scale in alluminio a 4 gradini da 39,99, 150 kg di portata, quindi una portata favolosa, con il vano contenitore sul top, quindi possiamo metterci cacciaviti, attaccarci magari qualche pennello piuttosto che. È una scala interessante, io ne ho già 3 o 4, inutile acquistarla, però, se vi può servire, 39,99 non è un prezzo troppo alto, specialmente ragazzi se consideriamo il fatto che i metalli sono davvero davvero ad un prezzo storico molto alto e quindi anche comprare una scala d'acciaio piuttosto che di alluminio ormai ha un costo abbastanza imponente. Pietra per affilatura 2 in 1, di queste qui ne ho avute parecchie, 12,99, devo dire che quelle che avevo comprato io costavano molto meno, le ho comprate altrove, però insomma se siete interessati all'affilatura tramite pietra piuttosto che per 12,99 potreste anche far la prova insomma e vedere come vi trovate. Set di chiavi e brugola 6,99 questo set tra l'altro viene riproposto molto spesso, devo dirvi una cosa, l'ultima volta che lo hanno riproposto ne hanno comprati talmente pochi che poi ne ho trovati 5 o 6 in offerta meno 30% quindi fate attenzione insomma solitamente quando li propongono non vanno così così bene nonostante il prezzo sia a mio parere molto competitivo e quindi è molto facile trovare questi set riproposti poi in offerta una settimana dopo col meno 30% io non l'ho acquistato perché ne ho già tanti però insomma se uno dovesse volerne acquistare un set può aspettare un pochino set di cacciaviti scalpello 6 pezzi 7,99 questo lo abbiamo spacchettato sul canale nella versione performance molto bella anche la versione rossa devo dire la verità molto molto carini punte magnetiche cromo vanadio insomma il solito set le spatole 3 pezzi 3,49 estremamente convenienti ditemi ragazzi se avete trovato qualche offerta migliore ma io non l'ho mai trovata un'offerta migliore di questa sulle spatole righello in acciaio set di falsa squadra marcatore a rondine 3,99 scontato del 20% se si utilizza il coupon altrimenti 4,99 ragazzi tutto ciò può essere molto conveniente specialmente se siete piastrellisti se lavorate con la pavimentazione se dovete fare lavori abbastanza precisi secondo me per 3,99 questi attrezzi ovviamente costano 3,99 l'uno possono davvero valer la pena di fare un salto alla Lidl set di pennelli vari 3 pezzi 3,99 il fonometro 12 e 99 andiamolo a vedere un po' nel dettaglio misurazione con indicazione digitale in DBA 30 130 due tasse di misurazione regolabili in dotazione protezione dal vento per il microfono a batteria vedete a 3 regolazioni hold fast slow massimo minimo e il tasto di accensione rosso parkside andiamo avanti vi faccio vedere il pirografo e i 7 pistola spara punti il pirografo io lo posseggo 9,99 funziona benissimo è un pirografo fantastico per 30 watt arriva fino a 500 50 gradi centigradi e devo dire la verità ci ho riparato anche della plastica non me ne vogliate non vi arrabbiate so che il pirografo non serve a far riparazioni di plastica ma io l'ho usato anche per quello e ha funzionato benissimo quindi questo pirografo lo consiglio anche se voleste dargli un uso non convenzionale attenzione andiamo avanti con il 7 pistola spara punti da 7,99 con 500 graffette da 8 500 graffette a U da 12 500 chiodi a T da 10 millimetri ragazzi io questa ce l'ho che ve lo dico a fare funziona benissimo l'unica cosa mi è capitato di usarla per lavori veramente grandi e alla fine avevo la mano gonfia come una zampogna quindi va bene per lavori piccoli oppure se potete usarla ad intervalli un po' più lunghi e lasciare riposare un po' la mano se no vi si gonfia tutta come è successo a me scherzi a parte è un'ottima pistola spara punti andiamo ancora avanti amici perché vi devo far vedere che cosa ci offrono nel super weekend attenzione perché nel super weekend abbiamo la solita riproposizione davvero interessante però della chiave dinamometrica a 19 e 99 allora da 80 a 210 newton metri in dotazione la prolunga da 125 millimetri e le bussole da 17 19 e 21 insomma il solito standard però questo ragazzi è un attrezzo che vi serve come il pane se siete dei meccanici fai da te o comunque se amate cambiare da voi le gomme magari spostare le gomme il treno di gomme da invernale a estivo eccetera 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 e volete farlo in piena sicurezza perché con questa chiave potete davvero avere una sensazione reale di quelli che sono i newton metri di chiusura delle vostre gomme e dei vostri bulloni quindi evitate magari di chiudere i bulloni fino a spanarli o a spezzarli e con questa chiave siete comunque sicuri di averli diciamo serrati in maniera corretta ragazzi io vi ringrazio di aver visto questo ennesimo volantino della Parkside spero presto di potervi proporre nuovi video sapete che sono in un periodo d'accio per quanto riguarda ristrutturazioni traslochi e quant'altro però insomma almeno 1-2 video alla settimana cerchiamo di farli uscire vi ringrazio con tutto il cuore e vi faccio un saluto ciao da Unboxo